San Berardo è il patrono di Teramo e c'è anche una scuola intitolata a San Berardo. Le classi quarta e quinta di questa scuola hanno deciso di conoscere meglio questo santo, così importante per questo territorio. A spiegare San Berardo ai ragazzi il professor Melarangelo. Ma non solo io, c'era anche il professor Luciano Verdone, che è molto vicino alla chiesa, oltre che alla scuola. Bene, San Berardo purtroppo non è che sia ben conosciuto. Intanto fu negli anni 50, i primi anni 50, fu creata la chiesa di San Berardo nel popoloso quartiere che prima si chiamò Matteotti, poi è diventato quartiere San Berardo. I ragazzi sono venuti a vedere la cattedrale dove c'è la tomba di questo santo miracoloso. Perché il protettore di Teramo? Dell'Alto Medioevo, tra l'altro. Protettore di Teramo perché ci sono avvenuti nella credenza popolare vari miracoli che poi sono stati rappresentati dipinti egregiamente da un pittore polacco, Sebastiano Maieschi nel 600. Dunque storia, religione e arte intorno a questo santo. Sì, anche perché il paliotto che si trova sotto l'altare, un'opera in cesello, è del grande Nicola da Guardia Grele, che all'inizio del 400 realizzò questo stupendo paliotto d'argento. E poi c'è anche un'altra opera importante che è dedicata anche a San Berardo con i suoi vari miracoli, il politico di Acobello del Fiore. All'interno della cappella di San Berardo c'è il corpo stato sepolto, custodito, il corpo di San Berardo e il braccio benedicente, dove all'interno di questo braccio benedicente un'opera sempre di Nicola da Guardia Grele c'è un osso, l'avambraccio. Che è la reliquia. Una reliquia del santo.